Ciao a tutti i giorni, io sono Mario G10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video vlog qua sul mio canale Allora ragazzi vi raccomando prima di iniziare con il video lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale Ragazzi notizia, ultima ora, ecco, notizia d'ultima ora perché ha firmato Zampa E quindi Enrico Zampa è ufficialmente un nuovo giocatore ragazzi del Trapani Io vi lascio la foto qui o qua o qui, insomma, da qualche parte, ok, adesso la possiamo levare Appunto Enrico Zampa che firma per il suo ritorno a Trapani perché io non me lo ricordo a Trapani Perché quando è stato a Trapani, verso credo la stagione 13-14, quindi insomma, quella stagione lì E io avevo ancora 4-5 anni, quindi 6-5 anni, insomma, ecco, e non me lo ricordo a Trapani Però da quanto so appunto è già stato a Trapani E appunto ritorno a Trapani, c'era parlato in ultimo video dell'episodio 5 Del calciomercato che poteva venire, insomma, è stato un poco complesso l'acquisto di Zampa Perché Enrico Zampa doveva venire, poi sembrava che era saltato l'affare Poi è ritornato a, insomma, si era detto che era in città come vi ho detto nello scorso video calciomercato E adesso è ufficialmente un nuovo giocatore del Trapani Centrocampista, classe, insomma, di anni 30 Andiamo un poco a leggere le notizie, ragazzi Ha compiuto appunto 30 anni lo scorso 18 marzo E ricordiamo perché, ricordiamo appunto che, come vi ho detto prima, per lui è un ritorno in Granata È cresciuto nel settore giovanile della Lazio Poi è passato alla Salernità nella stagione 2013-2014 Con cui vince il campionato di Serie C2 Dopo la breve parentesi con la Ferrapi di Salò Appunto arriva a Trapani, appunto, nella stagione, come vi dicevo prima, 14 Quindi in Serie B dove colleziona 18 presenze Poi ha giocato anche con la Ternana Mentre le sue ultime esperienze in C si dividono tra Ancona, Reti, Monopoli Poi Potenza e poi il passaggio al Turis E adesso dal Turis a Trapani in Serie D Perché, se non sbaglio, lui ha giocato praticamente tutta la sua carriera in C Ma in D ha giocato la sua carriera in C E poi in B credo con la Ternana e il Trapani E quindi è la sua prima esperienza in D Quindi è un giocatore sicuramente non da D È un giocatore più da C Però, ecco, è un giocatore appunto importante proprio per questo Perché è un giocatore, a quanto pare, superiore alla categoria Perché se è giocato sempre in G Vuol dire che rispetto alla D Dovrebbe aiutare il Trapani a fare un'ottima stagione Lui ha detto appunto che questa città mi ha accolto quando ero ragazzino E torno adesso che sono un uomo Non appena ho saputo dell'interessamento del Trapani Ho dato sin da subito la mia disponibilità Poco mi importa della categoria Mi interessa riportare il Trapani dove merita Cioè la C e poi magari la B Poi magari la andiamo troppo oltre Non voglio fare promesse perché nel calcio ci sono tanti fattori Ma posso garantire esperienza Tanto lavoro quotidiano per farci che il Trapani Possa tornare in alto il prima possibile Ragazzi, queste sono le parole di Enrico Zampa Secondo acquisto ufficiale del Trapani Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando se fosse così lasciate un bel mi piace E noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video Ciao